Ben 540 anni di carcere, questa è la richiesta avanzata dal sostituto procuratore della DDA di Catanzaro Antonio De Bernardo, al termine della requisitore nel processo nato dall'operazione antimafia denominata Petrol Mafie. Sono state 59 le richieste di condanne per boss e gregari dei clan vibonesi, ma anche per imprenditori e amministratori pubblici. Sette anni di reclusione infatti sono stati chiesti per l'ex presidente della provincia di Vibo, attuale sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, imputato di estorsione elettorale, corruzione e turbata libertà degli incanti con l'aggravante mafiosa. Trent'anni di reclusione sono stati chiesti per il boss Luigi Mancuso, accusato di essere a capo delle crimini di Vibo Valencia, struttura di indrangheta sovraordinata rispetto ai singoli clan, la sua posizione era stata stralciata dal max processo rinascita Scott e confluita in questo procedimento, identica richiesta di condanna anche per l'imprenditore Giuseppe D'Amico, cugino di Solano. Quest'ultimo, secondo l'accusa, avrebbe stretto un accordo con il cugino per affidare alla ditta dello stesso D'Amico appalti per l'abitumazione delle strade in maniera illecita e con materiale scadente. L'inchiesta, condotta dalla Rossa dei Carabinieri, ha fatto emergere un'associazione per delinquere, con base a Vibo Valencia, finalizzata all'evasione dell'IVA e delle accise sui prodotti petroliferi. La frode, secondo l'accusa, consisteva nell'importazione dall'est Europa di prodotti petroliferi, artefatti miscele poi messi in commercio come gasolio per autotrazione con conseguenti cospicui gradagni dovuti al differente livello di imposizione fiscale. I prodotti venivano trasportati con documentazione falsa nei siti di stoccaggio di Maglierato e Santa Venerina. A dare il via all'inchiesta era stato un pranzo a Vibo Valencia monitorato dagli investigatori, al quale parteciparono il boss Luigi Mancuso e i suoi gregari Pasquale Gallone e Gaetano Molino. L'obiettivo era importare grossi quantitativi all'ingrosso di prodotti petroliferi in Italia, bypassando gli accordi di monopolio che gli esportatori di quei paesi avevano con i grandi produttori italiani, soprattutto Eni, tramite una società che sarebbe stata creata appositivamente e sarebbe stata compartecipata da rappresentanti delle socio rumeno Romptroll e Dadamico e Porretta.